I ciclabili qui a Roma sono percorsi che negli anni sono stati fatti in maniera spot. Quello che vogliamo è riprendere in maniera organica tutto il tessuto esistente, riqualificandolo e mettendolo in sicurezza dove serve, perché purtroppo ci sono stati negli anni alcuni incidenti. Quindi l'idea di creare un nuovo percorso, una ragnatela di ciclabili, se così possiamo dire, che vada, ripeto, a recuperare l'esistente e a unire anche con nuovi progetti che abbiamo in corso di definizione. Interventi vengono garantiti anche per la Tuscolana, per Inestina, dove si lavorerà con fondi europei, così come per la ciclabile sul Viale della Moschera e sulla Colombo, cantieri a stretto giro. Tutto in tempi brevi, speriamo, a nome dei ciclisti già in strada e di tutti coloro che vorranno fare la scelta della mobilità dolce.